Dal 1 marzo sono ripartiti presso l'ospedale San Massimo di Pene nel reparto di ortopedia i ricoveri anche in urgenza. Infatti dopo un anno e poco più di ricoveri solo in dei sargeri, grazie all'arrivo del dottor Peracchia che ha riampliato il numero di medici nel reparto di ortopedia, adesso sono ben 4 e quindi si può tornare alla piena attività. Su questo sentiamo le parole del dottor Domenico Palmieri. Oggi finalmente possiamo ricoverare i nostri amalati e dare un servizio più importante al territorio soprattutto per quello che riguarda i pazienti traumatizzati. È stata una forte spinta da parte dell'azienda che ringrazio in modo particolare, la direzione sanitaria, il capo dipartimento, il dottor Basti grazie ai quali siamo riusciti per fortuna dopo un anno ad avere finalmente tutto l'organico integrato per poter così ripartire a pieno regime con tutte le nostre attività. Ci attestiamo su 700 interventi quasi solo in dei sargeri quindi siamo contenti, è un traguardo veramente importante. Ora ci aspettiamo che i nostri numeri crescano, crescano ma soprattutto crescano i numeri dei pazienti che ci verranno a trovare. Già oggi abbiamo la fortuna di ricevere anche nel nostro nostro comio pazienti fuori dalla provincia e qualcuno comincia a venire anche da fuori regione e per noi è veramente un'attestazione di grande stima. Su questa buona notizia è arrivato anche il commento del sindaco Mario Semproni che però ha voluto anche lanciare un messaggio alla direzione sanitaria LAS di Pescara per quanto riguarda il reparto di chirurgia. L'attività è ripartita in maniera adeguata anche se va dato merito a tutti gli operatori che nel periodo antecedente, il primo marzo, in ogni caso l'attività non si è fermata. Voglio dare il mio applauso al dottor Caporale che è il primario otorino-laringoiatra di Pescara perché grazie alla sua disponibilità anche il reparto otorino-laringoiatrico sta ripartendo anche con un nuovo medico e ci sono ottimi numeri per quanto riguarda le prestazioni erogate. Il problema però potrebbe sorgere verso la fine del mese di marzo nel reparto di chirurgia, quello diretto dal dottor Ciarelli perché a me risulta che un medico si assenterà per più mesi, quindi io invito la direzione generale sin da ora a intervenire per coprire questa difficoltà che potrebbe sorgere e che metterebbe in crisi l'intero apparato della chirurgia generale.